Ciao a tutti, torniamo a contare il nostro appuntamento per scoprire le novità dei giudici moto. Oggi vi presentiamo una delle naked più vendute al mondo, stiamo parlando della Kawasaki Z750. Questa moto di video è matricolata nel 2010 a soli 9.000 km, unico proprietario in condizioni chiaramente pari al 9. La ciclistica e il motore sono ben noti, 4 cilindri in linea da 106 cavalli e una ciclistica veramente impeccabile con una frenata eccezionale. Se volete venire a scoprire questo fantastico modello, ci trovate a Crono Portosella in VVS800 oppure sul nostro sito internet giudicimoto.it